Hubert, magari sei un po' sorpreso del podium, perchè hai il podium grazie anche a un crash per gli altri ragazzi, ma la velocità era lì, perchè hai la seconda besta della raccoglia quindi 8.6 è una buona performance Sì, il weekend è iniziato molto bene, con una buona qualificazione e la rita anche prima della finalità era molto difficile, credo che il tiro era fatto e alla finalità abbiamo cambiato il setup, abbiamo cambiato il motore quindi abbiamo trovato qualcosa molto molto bene, ho una buona velocità e mi sento bene nella cartella, ero molto veloce al principio, volevo aiutare i aiutare anche i miei amici per andare in fronte ma ho scoperto quando ho avvicinato dopo ho avvicinato due o tre posizioni ma ho avvicinato molto buona velocità quindi potrei tornare al fronte e avvicinare due persone due driver e arrivare al podium e arrivare al ultimo lap quindi sono felice ma credo che è una buona performance e con la velocità sono molto felice Grazie mille Grazie mille